Avrebbe fatto sesso con un ragazzino di soli 15 anni durante una festa. La polizia l'avrebbe trovata sopra la grondaglia della sua abitazione. Si chiama, pensate, Amber Bradley, a solo 29 anni d'età, quasi 30, originale dell'Aiuta, degli States, ed è stata trovata senza sensi alle 4 del mattino nella grondaglia della sua abitazione in stato di alterazione psicofisica. La donna aveva organizzato una festa a base di alcohol all'interno della sua abitazione, durante la quale però sarebbe stato fatto uso di droghe. In casa, durante la festa, erano presenti anche i tre figli, 4, 5, 8 anni d'età, a cui stava bandando un ragazzo di 15 anni quando la polizia ha fatto eruzione nell'abitazione. Sembrerebbe che la ragazza, durante la festa, avrebbe avuto dei rapporti sessuali con ragazzi di 14 e di 16 anni, quindi con ragazzi con l'età compresa da 14 e 16 anni, e qualche giorno prima sarebbe andato a letto con un 15enne proprio nella sua abitazione. Amber, da diverso tempo, ha una relazione con i minorenni, a rincastrarla sarebbero stati molti, saggi a luci rosse, quindi inequivocabili, presenti all'interno della memoria del pericolino. La ragazza è stata arrestata e condannata a 5 anni di rivoluzione in carcere. Ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, questo sarebbe quanto, un saluto è presto.